e a buongiorno a tutti allora stamattina ha incominciato a piovere tantissimo con le lampi tutto quanto allora niente oggi sto a casa almeno per un momento sto a casa adesso voglio fare il letto voglio lavare tutto anche copriletto e poi dopo metto anche stirare ne approfittiamo anche di questo tempo qua l'avante qua prima te la soltina 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Lo ho trovato solo dai cinesi, non so perché, ma non stronda e non sono parte. Secondo me, come periodo è molto efficace una cosa del genere. mettiamo a lavare anche questo qua un po' un po' un po' Guardate la condizione di questa cosa qua, adesso non lavo anche questo, intanto spruzzo con questo poi lo lascio reagire un pochettino, ma guardate che buono. Guardate la condizione di questa cosa. Guardate la condizione di questa cosa. Guardate la condizione di questa cosa. Intanto lascio così, lascio reagire un pochettino, dopo facciamo una lavatrice con queste cose qua. Niente, basta con l'aspirapolvere dappertutto. Grazie. 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 A presto. ciao ragazze il mio video di oggi finisce qua e ci vediamo presto ciao ciao ciao